Parla fanazzurri, benvenuti sul canale Notizie di Napoli, andiamo alle ultime dall'azzurra. Ma prima se siete nuovi qui già iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessuna novità dal Napoli. Bartosz Berezinski ha firmato con il Napoli. Il terzino classe 1992, titolare della nazionale polacca che è scesa in campo in Qatar durante il Mondiale 2022, ha messo finalmente nero su bianco, apponendo la sua firma sul contratto che lo legherà da oggi, 7 gennaio 2023, fino al 30 giugno al. Sodalizio di proprietà di Aurelio de Laurentiis Il giocatore ha sostenuto le visite mediche in mattinata e, accompagnato dal suo manager, Federico Pastorello, ha raggiunto il patron per espletare le ultime formalità. Lo stesso presidente Campano ha condiviso sui social network un'immagine di Berezinski al momento della firma, con tanto di messaggio per l'ormai ex capitano della Sampdoria, benvenuto Bartosz. Si ricorda che il giocatore polacco si trasferisce a Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto. Al termine della stagione in corso, il club partenopeo potrà dunque decidere se trattenerlo, versando 1,8 milioni di euro nelle casse della società Ligure. Ehi, fan di Azzurra, lascia la tua opinione nei commenti perché è molto importante per il Napoli.